Nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato di seconda categoria, Girone F, il Cole di Mezzo, secondo in classifica, affronta nell'antistadio di Francavilla il Real Calcio. Squadra che, da quello che si è visto oggi, non merita l'ultimo posto in classifica. Il Cole di Mezzo pareggia in zona Cesarini, portando a casa un punto prezioso per rimanere agganciato alle posizioni di testa. La prima occasione è al ventesimo. Rilancio della difesa bianco-rossa, si ostacolano due giocatori del Real Calcio e Novello tocca per Diorio, che incredibilmente sciupano favorevole occasioni. Il ventonesimo minuto, ancora Cole di Mezzo, Scalizzi sulla destra, lavora un buon pallone per Diorio. Facile l'intervento di Sorgetti. Due minuti dopo, trentunesimo, ancora un lancio del centrocampo per Novello, che scatta al limite del fuorigioco, si presenta solo davanti a Sorgetti e calcia malamente al lato. Il primo tempo termina sullo 0-0 con poche emozioni. Nella ripresa, nel Cole di Mezzo, entra Mr. Simone D'Alessandro, ma il Real Calcio gioca meglio. Al quarto minuto, punizione dal vertice sinistro per il Real Calcio, respinge di pugno Paolucci e Scalizzi libera. Un minuto dopo, fa tutto bene Scalizzi sulla fascia sinistra, ma la conclusione è da dimenticare. Al sesto minuto, Porfiglio, favorito da un rimpallo, anticipa Sorgetti in uscita, ma non inquadra la porta. Al dodicesimo, si fa sotto il Real Calcio con Savarese Marco, che tocca per Sardella. Tiro, Paolucci chiude bene sul suo palo e mette in angolo. Ancora il Real Calcio un minuto dopo. Savarese Daniele, sulla destra dal vertice dell'area, impegna severamente Paolucci. Quindicesimo, i giocatori biancazzurri reclamano un calcio di rigore per farlo su proterra. L'arbitro lascia correre. Al sedicesimo, sostituzioni nelle fine del cole di mezzo. Entra Di Lello, esce Ceroli. Ventesimo minuto, vantaggio del Real Calcio. Sardella perde Ingenis, che dalla destra crossa e Savarese Daniele trafigge Paolucci. 1-0, vantaggio della scuola di casa. Rabbiosa la reazione bianco-rossa. Al ventiduesimo, D'Amico, palla filtrante per Novello e intervento dubbio di un difensore. Per l'incerto arbitro buonocore di Pescara tutto regolare. Quarantesimo, Scalizzi supera Farracce, che commette fallo. L'arbitro non applica il vantaggio e fischia la punizione tra le proteste dei bianco-rossi. Sulla punizione, prima ribattuta dalla barriera, conseguente cross colpisce di testa D'Amico e Novello mette in rete, ma l'arbitro annulla per dubbio fuorigioco. Al quarantaduesimo i bianconossi hanno l'occasione più limpida per pareggiare. Tira Di Iorio, Sorgetti si supera e respinge, ma Paciocco tocca con il braccio e l'arbitro indica il dischetto. Scalizzi, dagli undici metri, manda malamente a lato. Nei minuti di recupero, al novantaquattresimo, arriva il pareggio del cole di mezzo. Scalizzi, dalla sinistra, crossa, respinge la difesa del Real Calcio e Di Iorio, dal limite dell'area, controlla e lascia partire un tiro che si insacca all'incrocio dei pali. Esultanza dei giocatori e della bianchina bianco-rossa. Un minuto dopo, l'arbitro fischia la fine. Risultato giusto. Per il Real Calcio, un punto meritato che fa morale, mentre i bianco-rossi del colle continuano a sognare.